Ho provato a perseguire e a raggiungere i miei obiettivi per tanto tanto tempo e non ci sono mai riuscito Ogni volta iniziavo a perseguire un obiettivo e facevo le azioni che dovevo fare per raggiungere quell'obiettivo Ma dopo poco, dopo un mese massimo, smettevo di farle e tornavo alla mia vita di prima Tornavo a scrollare su TikTok, tornavo a procrastinare E piano piano il mio obiettivo è come se perdesse di posizione nella mia mente Da che era la mia priorità ed ero eccitato, non vedevo l'ora di perseguirlo A che è scalato alla seconda, terza, quarta, quinta, decima posizione Dopo un po' mi riaccorgevo di questa cosa e riniziavo a perseguire l'obiettivo, lo stesso obiettivo oppure un altro Ma questo appartiene al passato Infatti adesso sto perseguendo lo stesso obiettivo da quasi due anni E ho ottenuto risultati che mai avevo ottenuto prima nella mia vita Immagina se anche tu riuscissi veramente a inseguire un obiettivo per tutto questo tempo Cosa potresti fare? Con le conoscenze che hai, con lo studio che ci metti dietro Magari ti guardi tantissimi video su come fare questo, su come fare quell'altro Come andare in palestra, come iniziare il tuo business online, dropshipping, Amazon FBA, YouTube, quello che vuoi E quindi hai le conoscenze, però non hai un metodo, una strategia per perseguire i tuoi obiettivi Bene, in questo video andremo a vedere proprio questa strategia Che è la stessa strategia che ha funzionato con me E che ho creato appositamente unendo tantissime cose che ho appreso negli anni E che ho chiamato un metodo BRANF Ma prima di iniziare mi presento Io sono BRANF e in questo canale parlo di business, soldi e crescita personale Se vuoi vedere più video dove si dà la priorità alle informazioni di reale valore Piuttosto che all'editing oppure all'intrattenimento Allora questo canale fa per te Quindi iscriviti e attiva la campanellina Come ti ho accennato, la mia vita era quella Volevo diventare ricco Il classico sogno di tutti Volevo arrivare alla libertà finanziaria Essere milionario, multimilionario Se sei su questo canale sicuramente anche tu vuoi fare ciò E quindi ho iniziato dal classico come guadagnare online Scrivevo su YouTube come guadagnare online E ho visto i primi video Quando ho capito dopo un po' che in Italia non c'era nulla di buono Ti parlo che io avevo 14, 15, 16 anni circa E a quel tempo in Italia letteralmente c'erano due YouTuber Ancora mi ricordo il nome E sono gli YouTuber Uno di questi fa ancora i video L'altro è scomparso E se sei nel mondo del business Da tanto tempo quanto me li conosci Stai capendo di chi sto parlando Quindi per farla breve Quando ho capito che in Italia non c'erano contenuti riguardo a questo Ho iniziato a cercarli in inglese Quindi ho iniziato a imparare inglese Ho iniziato a capirlo bene Adesso lo capisco tipo a per due Vado sui video inglesi Metto per due Lo capisco benissimo Ma al tempo facevo difficoltà Quindi immaginate la difficoltà di un ragazzo Che vuole iniziare a fare business E non sa nemmeno la lingua che sta ascoltando Per imparare questa materia Quindi ho passato davvero davvero tanto tempo a capire quali libri leggere Quali contenuti consumare Quali informazioni fossero migliori di altre Poi passi da queste fasi Pensi di sapere tutto del business Capisci che è così tanto immenso C'è il marketing La vendita Le strategie di prezzo La creazione di un'offerta Lead generation Tutte queste cose E capisci che ci vogliono dieci anni per imparare tutto E dopo arrivi alla fase in cui sono ora Dove sai tanto Sai abbastanza Ma ci sono voluti anni per arrivare qui Io al tempo pensavo che mi servissero solo le informazioni Ovvero il come diventare ricco E nonostante tutta questa fatica Alla fine ho capito che non era così Infatti sapevo perfettamente come diventarlo Sapevo perfettamente come guadagnare 10, 20, 30 mila euro al mese Tanto che l'ho fatto E se hai visto i miei vecchi video lo sai Ma non sapevo come applicare queste strategie nel lungo termine Come farlo e non smettere mai Come raggiungere i risultati Perché io so per certo come creare un funnel di vendita Come creare quella strategia di prezzo Che ti permetta di attirare quei clienti in target E scremare già di suo Solo grazie al prezzo Tutti i clienti che non sono in target con l'offerta Eccetera eccetera Sei tutta questa teoria Ma non sai come applicarla per il lungo termine Non hai la disciplina e la costanza per farlo E magari oltre questo obiettivo Nei altri come dimagrire Come non lo so imparare a giocare a scacchi Eccetera eccetera Ed è qui che nasce E che è nato durante il tempo Tutti i miei errori negli anni Il metodo BRANF Che adesso ti spiegherò subito Il metodo BRANF Ti permette di raggiungere al 100% tutti i tuoi obiettivi Se lo seguirai passo passo La prima fase che ti devi segnare e devi capire È quella di scrivere 5 obiettivi Che ti possano rendere migliore Per esempio ti leggo quelli che ho scritto per questo video 50.000 euro netti al mese Dimagrire 100k iscritti su YouTube Trovare una ragazza di valore Andare virale su TikTok e Instagram Questi sono i 5 obiettivi Ovviamente sono degli esempi Non sono i miei reali obiettivi Che ti ho detto in un altro video E questa era la prima fase La seconda fase è rendere più definiti i tuoi obiettivi Ma non troppo Cioè non scrivere Voglio perdere 25 kg di peso Entro questa data Per questo metodo non funziona Questa strategia Anche se per altri metodi funziona Ma io trovo più utile Non scrivere né dimagrire Né andare troppo nello specifico Ma scrivere Perdere 25 kg L'obiettivo dimagrire diventa Perdere 25 kg Un po' più definito ma non troppo Quindi prendi tutti questi obiettivi che hai scritto Che possono essere 5 Come esempio Io ti consiglio un massimo di 5 Ma puoi farne anche 4 o 3 Rendili più definiti Ma non troppo E poi si passa alla terza fase Per la terza fase devi capire Che ogni obiettivo ha un prerequisito Per esempio Metti caso che il tuo obiettivo È creare una sedia di legno Una semplice sedia di legno Non puoi concentrarti sulla creazione della sedia di legno Se non hai il legno Quindi il prerequisito di questo obiettivo È andare a tagliare un albero Il prerequisito di questo obiettivo È comprare gli strumenti E ti permettono di tagliare l'albero Il prerequisito di questo obiettivo È fare i soldi Perché devi comprare gli strumenti E questo obiettivo avrà un altro prerequisito Ovviamente si arriverà a un punto Dove c'è un obiettivo che non ha prerequisiti È così tanto facile da compiere Che non ha nessun prerequisito Bene Quello che devi fare adesso È prendere questi cinque obiettivi Che hai definito un po' meglio E riordinarli In base a quale pensi Che sia il prerequisito di quello successivo Ti faccio un esempio La lista che ho detto prima Diventerebbe Dimagrire Andare a virare su TikTok IG Fare centomila iscritti su YouTube Guadagnare cinquantamila euro netti al mese E trovare una ragazza di valore Quindi il primo obiettivo Quindi il prerequisito di tutti questi obiettivi È dimagrire Come mai? Perché dimagrendo Ho una percentuale di massa grassa minore Il mio cervello avrà meno mental fog Riuscirò a essere più produttivo Riuscirò a muovermi meglio Riuscirò a stancarmi di meno E quindi tutti gli obiettivi che vengono dopo Mi verranno più facili Poi ho messo virale su TikTok e Instagram E solo dopo centomila iscritti su YouTube Perché se vado virale su TikTok e Instagram Di conseguenza riconduco tutto il traffico a TikTok Riconduco tutto il traffico a YouTube E tutto questo meccanismo mi permetterà Solo dopo di guadagnare cinquantamila euro netti al mese E una volta che ho raggiunto tutti questi obiettivi Quindi sarò dimagrito Avrò guadagnato Sarò famoso Allora potrò trovare una ragazza di valore Ovviamente questo è un esempio È un esempio del cazzo tra l'altro Però hai capito quello che ti voglio dire Devi riorganizzare i tuoi obiettivi In maniera da metterli in ordine Di quello che si deve fare prima Per raggiungere quelli che si devono fare dopo Non li devi Attenzione Attenzione Non li devi mettere in ordine di importanza Perché magari per me in più Il più importante è trovare una ragazza di valore Ma capisco che per trovare una ragazza di valore Cioè che una ragazza di valore Voglia un ragazzo di valore E un ragazzo di valore non è Non ha il 30% di massa grassa Ma ne ha il 12% Semplicemente perché Tiene alla sua salute Non perché è più bello Eccetera eccetera Queste cazzate No perché Tiene alla sua salute Quindi una ragazza di valore Vuole un ragazzo che tiene alla sua salute Ovviamente Quindi sì Il più importante per me È una ragazza di valore Ma dovrò andare a inseguirlo per ultimo Perché ho bisogno dei prerequisiti Per averla Sarebbe inutile inseguire l'obiettivo Di trovare una ragazza di valore Se io non sono prima di valore E quindi se io non ho i prerequisiti per farlo Una volta ordinati gli obiettivi Arriviamo alla prossima fase Ovvero concentrarsi sul primo obiettivo E basta E come fai a raggiungere questo primo obiettivo? Scomponendolo in altri prerequisiti E in altri mini obiettivi Prendiamo l'esempio Devo dimagrire 25 kg Questo obiettivo può essere scomposto in Mangiare sano Deficit calorico È allenamento Quindi so che devo mangiare sano Equilibrato Tutti i macro I micronutrienti So che comunque Devo andare in deficit calorico Matematicamente Per perdere peso E so che devo allenarmi In maniera da Stimolare il muscolo Così che il corpo Non vada a consumare il muscolo Ma vada a consumare i lipidi Quindi la massa grassa Una volta fatto ciò Prendo ogni obiettivo E creo una strategia dietro Giornaliera Per esempio So che devo mangiare sano Ok Cosa devo mangiare ogni giorno Per arrivare all'obiettivo Complessivo di mangiare sano So che devo fare un deficit calorico Quanto devo mangiare ogni giorno In maniera che vado in deficit Nella settimana So che devo allenarmi Cosa devo fare ogni giorno Ogni singolo giorno Per raggiungere questo obiettivo Se io mi alleno ogni singolo giorno Mi basterà mezz'ora al giorno E questo È molto più sostenibile E sarà molto più facile da raggiungere Una volta raggiunto questo obiettivo Sei dimagrito i 25 kg Vai in mantenimento Quindi Ormai sarà diventata un'abitudine per te Allenarti Mangiare sano Non sarà più faticoso Perché hai già raggiunto questo obiettivo E vuol dire che l'hai fatto per un periodo così lungo Da diventare un'abitudine E allora puoi passare al secondo obiettivo Questo è il metodo che serve per chi Non ha la forza di volontà Per chi non ha mai avuto Diciamo la salute mentale E la disciplina per poter portare avanti Obiettivi per tanto tempo Perché non devi concentrarti Eh voglio diventare ricco Eh voglio fare questo Voglio fare quell'altro Ma scomponi gli obiettivi in prerequisiti Lavori su un prerequisito alla volta Che raggiunge un obiettivo E poi passi al prossimo Invece facendo tante cose insieme Una settimana Due settimane Un mese massimo E poi smetti di farle Perché non hai la disciplina Non l'hai costruita Come in palestra Hai bisogno dei carichi progressivi Non è che puoi entrare in palestra Il primo giorno Fai 100 kg di panca piana Allo stesso modo Hai bisogno dei carichi progressivi In tutte le altre cose della vita Non puoi pretendere di Da che fai zero A che insegui cinque obiettivi No Inizia dal basso Per poi arrivare a fare tante cose Quando La vita sana Il dimagrire Nel mio esempio Sarà diventato facile Per te Allora puoi passare Al secondo obiettivo Che nel mio caso È andare virale Su TikTok e Instagram Come mai È il secondo obiettivo Perché ovviamente TikTok e Instagram Si basano Sull'immagine Cioè Se io faccio un video Vedete la mia immagine Essendo più magro Avendola la faccia più definita La mia immagine sarà migliore Non prendiamoci per il culo È così Inoltre Tutti i benefici Che ti ho detto prima La mente Lavora molto meglio Quando sei più magro Eccetera 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 Una volta che sei passato al prossimo Fai la stessa identica cosa Quindi io devo andare Virale su TikTok e Instagram Cosa devo fare? Scomponilo in prerequisiti E raggiungi tutti quei prerequisiti E raggiungerai l'obiettivo centrale Non ti voglio far perdere tempo Quindi ti dico subito Che il video è finito qui Spero che ti sia stato d'aiuto E se ti è stato d'aiuto Il video che sta apparendo a schermo Lo sarà ancora di più Quindi vai a guardarlo E se ti è stato d'aiuto